signori in questo breve video anticipiamo il nostro modello di camera modello lila camera con cabina armadio nascosta ci arriviamo subito qui vediamo il letto con la testata imbottita dalla forma asimmetrica letto leggermente inclinato leggermente storto per creare un po di design e per agevolare i passaggi all'interno del locale letto sospeso quindi contenitore arretrato che mi garantisce il contenimento ma rende tutto molto aereo molto molto leggero ma arriviamo al vero e proprio fiore all'occhiello la nostra cabina armadio nascosta qui accediamo a questa idea innovativa tramite un armadio che per metà contenitore per metà mi dà accesso alla cabina nostre cabine armadio celeberrime realizzate su misura con le forme arrotondate qui la vediamo molto grande ma si realizza ovviamente anche più piccola signori guardate il video completo sul nostro canale di youtube iscrivetevi al nostro canale seguiteci sui social e venite in showroom grazie al prossimo video